Formare una famiglia è una scelta intima, che appartiene alla sfera personale e di coppia. È una decisione influenzata da tanti fattori, anche fattori culturali, che si evolvono nel tempo. Questi motivi spiegano, almeno in parte, alcuni dei cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. In particolare, il calo della proporzione di famiglie con figli, la riduzione del numero dei figli per coppia e l'aumento dell'età media in cui si ha il primo figlio. Negli ultimi anni, questa scelta è stata sempre più condizionata dalla precarietà economica e lavorativa dei giovani, dalla loro difficoltà a rendersi autonomi dai propri genitori. La famiglia è un bene collettivo, essenziale per la crescita individuale e la crescita della società. Questo bene collettivo può e deve essere tutelato dallo Stato. Fin dagli anni Ottanta, l'Italia ha però registrato una spesa pubblica per le famiglie stabilmente più bassa rispetto ad altri Paesi europei, come la Francia, la Germania e il Regno Unito. Il nostro impegno è usare le politiche pubbliche per rimuovere gli ostacoli alla scelta di formare una famiglia e mettere le coppie in condizione di avere figli se lo desiderano. Oggi voglio soffermarmi su quello che, come Governo, abbiamo fatto negli ultimi mesi. La riforma principale, attesa da molto tempo, è quella dell'assegno unico, per cui si potrà fare finalmente domanda a partire da gennaio. È uno strumento semplice perché riduce la frammentazione dell'attuale sistema di aiuti. È universale perché riguarda tutte le famiglie con figli a carico, a prescindere dalla condizione lavorativa. È equo perché sostiene più intensamente chi ha un reddito basso.